Per i trovati seconda parte di Angoli dedicata alla festa del papà perché oggi è la festa del papà ma sabato 21 marzo ci sarà una grande celebrazione in piazza Cavour dalle 10 alle 20 organizzata dall'associazione La Rinascita e in compagnia di tante altre associazioni che sono a supporto per cercare di organizzare una giornata dedicata alle famiglie, dedicata ai bambini e soprattutto ai loro papà. Ne parliamo con Gianmario Pagani, presidente dell'associazione La Rinascita, buonasera, e in compagnia di Giovanni De Caro, presidente dell'associazione Carte D.M. Buonasera, dunque Gianmario iniziamo magari con lo spiegare subito ai nostri telespettatori che cos'è la Rinascita, che tipo di realtà è e quindi poi perché nasce l'idea di questa festa del papà. Ti ringrazio, allora noi siamo una piccola associazione Onlus che opera da circa un anno sia a Como come dintorni anche a Milano e Varese, queste sono le realtà su cui siamo operativi e stiamo cercando di dare una risposta alle emergenze dei papà separati, papà che hanno vissuto una crisi sentimentale, una crisi intima, familiare, accompagnata sovente anche da una crisi economica. E quindi le risposte che stiamo cercando di dare sono sia di sostegno psicologico, quindi la prima accoglienza a queste persone in difficoltà, ma soprattutto dando loro poi una risposta economica ai loro bisogni primari che sono l'emergenza abitativa. Molti di loro si sono trovati anche per alcuni mesi a dormire in macchina, in auto, altri di loro non hanno un lavoro, quindi hanno difficoltà a arrivare a fine mese come molti comaschi che non sono papà separati ovviamente, ma hanno difficoltà a mantenere i loro figli, quindi a riconoscere il cosiddetto assegno di mantenimento per i loro bambini e conseguentemente anche a fare il papà, quindi a vederli, a accompagnarli nella loro vita. Quindi noi stiamo cercando con tante difficoltà a dare... Di dare una mano in qualche modo. Una mano, assolutamente sì. Ecco, proprio abbiamo detto questo... l'argomento è sicuramente serio e offre vari spunti di riflessione. Voi però cercate di raccogliere fondi o comunque di sensibilizzare le persone attraverso una serie di eventi comunque conviviali, dei bei momenti per stare insieme. Assolutamente sì. Ne abbiamo parlato poco tempo fa per un concerto che avete organizzato e questa è un'ulteriore conferma, grazie anche alla collaborazione di Carpe Diem. Assolutamente. Beh, intanto ne approfitto, se mi permetti, per ringraziare tutti i tuoi telespettatori e non solo loro, tutti i comaschi che sono intervenuti il mese scorso, casualmente il 21 febbraio, il 21 forse per noi è una data fortunata, speriamo, alla Sala Bianca del Teatro Sociale. Anzi, in quell'occasione abbiamo avuto una piacevole sorpresa, nel senso che il prefetto, il dottor Bruno Corda, oltre che essere presente e aver fatto anche un intervento molto toccante, è diventato nostro socio, quindi è uno dei nostri associati, il prefetto di Como. E quindi ringrazio per la sensibilità che la città di Como ci sta dedicando, come dicevi tu, noi siamo presenti ovunque ci sia un passaggio di persone, per cui ringrazio altresì il Comune di Como che ci dà la possibilità, non solo sabato, di avere la piazza Cavour per noi, per i nostri bambini, ma anche qualche volta ci ha dato la possibilità di essere presente nei luoghi pubblici, chiedo scusa, e anche la signora Gianna Ratti, se mi permetti, che è la patron del Bennett, dove siamo stati presenti più volte. Ecco, in cosa consiste poi a questo punto il contributo di Carpe Diem per la giornata del 21? Abbiamo detto che sarà un'intera giornata dedicata ai bambini, ai papà, alle famiglie in generale, lo stiamo vedendo adesso dalla locandina, ci saranno tante attività. Voi come avete contattato? Allora, noi ci siamo conosciuti praticamente all'evento del 7 e dell'8 marzo di World Sword Talent, che facciamo noi come associazione. E niente, lui ci ha contattato dicendo che comunque gli piaceva molto la nostra iniziativa e se potevamo dare ai ragazzi un'ulteriore possibilità di esibirsi in un palco in Centro Acomo, che per loro è comunque un gioco, perché noi comunque è un talent show, che più che altro fa divertire i ragazzi e fa sì che comunque si esibiscono e mostrano quello che sanno fare. Quindi nel corso della giornata alcuni ragazzi? Infatti, da lì poi magari può anche nascere veramente uno che è un piccolo talento. E quindi noi ci prestiamo anche perché comunque la loro realtà è un po' simile a quelle che comunque anche noi si affrontano, perché anche noi facciamo comunque eventi sempre sul sociale. Ecco appunto, siete sempre, cercate di portare così un sorriso, comunque sempre per quanto riguarda argomenti. Sì, noi facciamo tre eventi, cioè sostanzialmente tre eventi all'anno sul sociale. Siccome l'associazione La Rinascita comunque richiama, è sempre comunque una realtà sociale, quindi noi siamo stati contenti comunque di collaborare con loro, di contribuire nel nostro piccolo. Cosa ci sarà in questa giornata? Facciamo qualche anticipazione. Allora, ti ringrazio della domanda che è una domanda molto complessa. In senso che noi abbiamo iniziato a pensare, come dicevi tu all'inizio, alla festa del papà, che è oggi, ma oggi purtroppo i bambini sono a scuola ovviamente. E il papà si spera, quelli che hanno ancora il lavoro lavorino. E noi abbiamo pensato a sabato, poi abbiamo riflettuto, come vedete dalla locandina, dal nostro volantino che sta girando per Como, che il 21 marzo è anche il primo giorno di primavera. Quindi abbiamo voluto intitolare, è primavera, festa del papà. Dove abbiamo dato dei contenuti, ripeto, grazie al Comune di Como, la disponibilità di questa piazza meravigliosa. Ci saranno delle attrazioni, dei giochi, quindi troverete dei gonfiabili, i classici gonfiabili che fanno impazzire i bambini. Troverete un'area per bambini, quindi un gazebo gonfiabile bellissimo, rosso, dove potrete trovare delle ragazze professioniste, animatrici. Ci sarà il trucca bimbi, ci saranno i palloncini, ci saranno tante sorprese. Ci sarà il karaoke, il laboratorio, ci sarà il karaoke, bravissimo. Ci sarà anche Simone che... Infatti, ecco, ed è lì che adesso iniziano le cose un po' più complicate. Grazie all'amico Giovanni, perché poi è nata, come ricordava, una simpatia proprio a pelle tra di noi come persone, e come diceva Giovanni, anche noi ammettiamo al centro i bambini. E quindi loro sono molto amici di Simone e Tommasini, e la cosa è venuta abbastanza spontanea, per cui oltre ai bimbi che canteranno, balleranno, suoneranno, ci sarà anche Simone che farà una comparsata, canterà con la sua chitarra, e mi permetto di dire, nell'area dei bambini ci sarà anche la compagna di Simone. Martina ha un'associazione di ragazze che cercano di far divertire i bambini, quindi ci sarà anche lei. Simone che è diventato anche papà, comunque, proprio quest'anno, per cui ha particolarmente a cuore la causa. E quindi fa parte della categoria dei papà, dei papà. Assolutamente a tema. E tra l'altro una sua canzone che poi sarà proposta è diventato un po' il vostro inno. Sì, La scuola della vita, perché chi la ascolta, anzi invito i tuoi telespettatori ad ascoltarla, perché è una canzone bellissima di circa quattro anni fa, se non ricordo male, ma noi l'abbiamo riascoltata grazie a Giovanni, all'evento What's Your Talent, ed è una canzone che, se uno l'ascolta con attenzione, è un po' il nostro manifesto, cioè di quelle persone che, nonostante le sconfitte della vita, perché la scuola della vita non la puoi bigiare, perché... È impossibile... No, assolutamente, ma hai comunque la possibilità di rifarti una nuova vita. Infine, davanti al lago ci sarà una mega pista di grilli. Non so se molti di voi che ci ascoltano, ci vedono, si ricordano cosa sono i grilli. Eccoli, li vediamo. Eccoli, sono una dozzina di grilli. I miei figli, tra l'altro, sono appassionatissimi di questi oggetti a pedale, ma li pedali in modo strano, no? E quindi i ragazzi si potranno divertire dalle 10 del mattino fino alla sera alle 8 a gareggiare con questi giochi, con altre sorprese che non ti sto a svelare adesso. Per quanto riguarda i vostri talenti, quelli appunto del vostro piccolo talent show, quale sarà la fascia oraria orientativamente nel pomeriggio? Sì, il pomeriggio dalle 3 e mezzo alle 5 e mezzo. Quindi ci sarà un'esibizione di tutti questi... Più esibizioni, perché noi abbiamo mandato l'invito comunque a tutti i partecipanti. La maggior parte hanno aderito, quindi faranno anche la doppia esibizione, anche tre. Cioè, quello che ritengano... Vabbè, sì, chiaramente per poter offrire uno spettacolo a tutti coloro che decideranno di partecipare. Anche perché poi sono anche bravi. Ebbè, chiaramente per cui è uno spettacolo sicuramente. Non finisce qui comunque, perché poi verso le 18 ci saranno tre sorprese. Beh, diciamo, subito dopo l'esibizione dei ragazzi ci sarà Simone che ha voluto regalarci questo momento. Io immagino che sarà molto toccante anche la sua presenza. Lo ricordiamo che sta preparando il nuovo CD, per cui è per noi un grosso regalo, perché lo sappiamo molto impegnato in studio di registrazione. Per cui, ecco, dopo Simone ci sarà l'Ariodanza, che è una scuola di ballo di Cantù. Ecco, vedete le foto. Questa scuola novera parecchi ragazzi, pluridecorati a livello nazionale e non solo nazionale, tra cui un amico che è Elia Migliarese Caputi, che qualcuno che ci sta vedendo, ci sta ascoltando conoscerà, il quale oltre che essere un ballerino, anche lui pluridecorato, è stato incaricato, e non lo sa Giovanni ma è giusto che lo dica adesso, è stato incaricato da una società svizzera, perché ci sarà un grosso talent in Svizzera e quindi sarà un osservatore di questi ragazzi. Io l'ho invitato ad osservare questi ragazzi perché, anche se Giovanni non ne ha parlato, ma ci sono delle piccole gemme che io ho visto il 7 e l'8 marzo, dei ragazzi anche piccoli, che meritano tantissimo, quindi ci sarà questo osservatore e chissà mai, come dice Giovanni, che prenderà qualcuno di questi bimbi, di questi ragazzi, se li porta a questo talent a Lugano. Sarà una bella occasione quindi, voi avete partecipato proprio per, a fin di bene tutto sommato, però per i ragazzi sarà sicuramente una bella occasione. Non mancheranno le aree di ristoro, questo lo diciamo a scopo informativo. Salamelle per tutti, abbiamo deciso anche qua di scegliere la qualità, non dico chi ce le fornisce perché non voglio fare pubblicità che non è possibile, comunque ci sarà modo di nutrirsi anche nel corso della giornata. Chiorofilato per tutti, popcorn per tutti, quindi io spero, ecco ho fatto tanti contratti, ho ritirato la concessione dal comune questa mattina, non ho ancora ritirato il contratto con il buon Dio perché ci sia il sole. Ma dovrebbe esserci, abbiamo avuto poco fa il colonnello che ci ha detto che la giornata di sabato, quantomeno nella mattina, non dovrebbe piovere, poi nel pomeriggio, sera magari sì, in ogni caso per un po' dovrebbe reggere, speriamo il più tardi possibile. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, voglio rinnovare l'invito ai nostri telespettatori, mi raccomando sabato 21 marzo dalle 10 del mattino fino alle 20, comunque ci sarà l'occasione per passare una bella giornata e per fare del bene in favore dell'associazione La Rinascita. Grazie ancora a Gianmario Pagani, presidente della Rinascita, grazie a Giovanni De Caro, presidente dell'associazione Carpe Diem per essere stati con noi. Noi ci fermiamo, linea, adesso alle notizie del telegiornale, torniamo sempre qui domani per una nuova puntata di Angoli alle 19, non mancare.